1, 2, 2, 3 India, variazioni altimetriche, asfalto liscio ed un tratto misto molto impegnativo che richiede grande precisione di guida Curva 4, staccata violenta ruote dritte, chicane 6 e 8, doppio cambio di direzione con passaggio sui cordoli Curve 10 e 11 da affrontarsi con un'unica traiettoria Curva 4, potente decelerazione da 320 a 90 km orari in 140 minuti I pneumatici sopportano un'accelerazione longitudinale di 3,6 G pur garantendo stabilità e precisione per tutta la frenata Chicane 6 e 8, il pilota sfrutta tutta l'ampiezza del tracciato e taglia sui cordoli stressando la struttura della gomma I pneumatici anteriori assicurano grip e precisione per affrontare al meglio il cambio di direzione destra-sinistra ad oltre 200 km all'ora Curve 10 e 11, doppia curva che impegna i pneumatici in laterale per oltre 7 secondi ad essere più sollecitato e l'anteriore sinistro che sopporta un'accelerazione fino a 4 G in uscita quando le gomme richiesta la massima aderenza per il controllo traiettorico Asfalto scivoloso, varianti e curvoni ad ampio raggio Pirelli propone le mescole hard e soft che assicurano la miglior combinazione di prestazione e durata per affrontare le caratteristiche di questo circuito Do it! Do it! Raise!